La clamorosa gaffe di Cristiano Malgioglio, svelato un retroscena su Belen Wing Zuiden Cristiano Malgioglio, ospite a Mattino 5 di Federica Panicucci, si rende protagonista di una brutta gaffe. Inoltre ecco cosa ha rivelato su Belen. . Terminato il tanto amato e seguito reality di Canale 5, il cancelletto Grande Fratello Vip, i concorrenti di questa seconda edizione continuano a far parlare di sé. . Tutto ciò si verifica poiché diverse trasmissioni Mediaset proseguono con le ospitate dei vari vip per far sì che raccontino dettagli sulla loro esperienza e svellino fatti inattesi. . L'obiettivo di tali trasmissioni viene, quasi sempre, raggiunto, dal momento che, vuoi per un motivo, vuoi per un altro, gli ex concorrenti della casa più spiata d'Italia riescono a regalare al pubblico momenti di puro gossip e racconti inediti circa la loro permanenza in casa e i loro compagni da Venutra. . 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 Anche un retroscena su Belen. Mentre il GFV era ancora in corso di svolgimento, la showgirl argentina non aveva detto cose molto positive su Cristiano, aveva addirittura confessato di volerlo uccidere, ovviamente in modo metaforico. Finita lesperienza, però, Cristiano ha confessato di aver fatto pace con Belen e di aver quindi superato tutta quella questione. Grazie a tutti.